sempre a proposito di potenze ricordatevi che la potenza non è un'addizione non la dobbiamo confondere 2 alla seconda è uguale a 2 per 2 che fa 4 ma qualcuno mi dirà ma è uguale anche 2 più 2 è uguale a 4 sì ma non è il risultato della potenza 2 più 2 uguale 4 infatti questo non va bene 2 alla seconda non è questo se io faccio 2 alla terza qualcuno mi potrebbe dire ma 2 alla terza fa 6 perché 2 per 3 fa 6 invece non è vero perché non è 2 più 2 più 2 questo fa 6 ma non è 2 alla terza 2 alla terza è uguale a 2 per 2 per 2 e cioè 8